ciao a tutti e benvenuti in questo video vedremo quali sono i principali blocchi che compongono una centrale telefonica in parole povere vedremo quali sono le stanze i locali abbiamo già detto che la centrale telefonica è il cuore della rete urbana quindi ovviamente tutti i cavi che vanno a comporre la rete di tutta la città convergeranno verso la centrale i cavi entrano oppure a seconda di come lo guardiamo escono dalla centrale in un locale sotterraneo chiamato ascesa cavi qui tutti i cavi che compongono la rete di rame primaria vengono attestati in particolari manufatti chiamati muffole all'interno delle muffole i cavi provenienti dall'esterno che portano 800 1200 2400 coppie di rame vengono attestati a cavi più piccoli che poi salgono fino al permutatore urbano a volte all'interno della scesa cavi stessa ma molto più spesso in un locale separato c'è il pressurizzatore una macchina che ha il compito di soffiare aria all'interno dei vecchi cavi isolati in carta questo con un doppio scopo da un lato si mantiene la carta isolante all'interno dei cavi asciutta dall'altro lato qualora ci sia una rottura di una guaina del cavo l'aria servirà a impedire all'acqua di entrare e quindi guastare il cavo nel locale ascesa cavi transitano e possiamo trovare anche le muffole dei cavi in fibra ottica abbiamo detto che i cavi salgono fino al permutatore in questo locale che probabilmente è uno dei più animati della centrale telefonica i cavi vengono attestati in maniera verticale alle colonne qui a ogni singola coppia del cavo corrisponderà una paglietta metallica dal lato opposto del permutatore avremo i blocchetti anche i blocchetti sono composti da tante piccole linguette metalliche e qui possiamo trovare il segnale telefonico i segnali adsl e segnali di servizi più particolari come l'SHDSL il tecnico per eseguire un collegamento dovrà tirare una tricciola dal blocchetto dove si trova il segnale desiderato fino alla colonna e alla coppia corrispondente all'utente il segnale telefonico sui blocchetti di fonia proviene dalla commutazione i segnali adsl provengono dai mux situati nelle sale trasmissioni la sala di commutazione fino a qualche anno fa era il vero cuore della centrale ovvero dove nascevano tutti i segnali telefonici una volta erano locali molto grandi perché la commutazione avveniva in maniera meccanica possiamo immaginare quindi come per centrali molto grandi ci fossero parecchie migliaia di fili e ingranaggi oggi grazie alla tecnica numerica gli apparati hanno dimensioni molto ridotte quindi molte sale di commutazione hanno enormi spazi vuoti in molti casi questi spazi rimasti vuoti sono stati utilizzati per ricavare nuovi locali dove vengono ospitati gli apparati dei nuovi operatori nati dalla fine degli anni 90 in poi i blocchetti del permutatore quindi saranno collegati con un cablaggio fisico al locale della commutazione a sua volta il locale commutazione sarà accablato con il locale trasmissioni da qui infatti la centrale telefonica può vedere il mondo esterno può vedere la rete abbiamo già detto che è il locale che ospita anche i mux i dislam adsl e in generale possiamo dire che ospita tutte quelle apparecchiature che tramite processi di multiplazione prendono tutti i segnali e li fanno convogliare su un canale unico verso appunto altre centrali per questo motivo nelle sale trasmissioni troviamo anche le attestazioni dei cavi in fibra ottica così come al permutatore vengono tirate delle trecciole tra i blocchetti e le colonne nelle sale trasmissioni vengono posate delle bretelle ottiche che collegano gli apparati con i telai a cui sono attestati cavi in fibra ci saranno poi dei cablaggi rigidi che collegheranno le schede adsl dei mux con i blocchetti adsl del permutatore infine un locale non meno importante è il locale batterie in caso di assenza di corrente bisogna comunque garantire il servizio dunque ricapitolando abbiamo detto che i cavi della rete urbana entrano in centrale attraverso l'ascesa cavi che è sotterranea da qui i cavi in rame salgono al permutatore dove vengono attestati alle colonne le colonne vengono raccordate con delle trecciole ai blocchetti i blocchetti di ifonia sono collegati con la commutazione i blocchetti adsl sono collegati con i dislam nella sala trasmissioni queste due sale commutazione trasmissione hanno comunque bisogno di vedersi per permettere la multiplazione e demultiplazione della fonia in entrata e in uscita per questo video è tutto abbiamo cercato di semplificare il più possibile per rendere l'argomento accessibile a tutti spero che sia tutto chiaro appuntamento al prossimo video